Ciao a tutti, sono Sofia Kivalar e, che dire, voglio fare un video per un evento molto speciale, ovvero il fatto che il canale ha raggiunto i mille iscritti. Volevo farlo nonostante il fatto che effettivamente c'ho spesso e volentieri 39 di febbre, c'ho l'influenza con un febbrone altissimo, però non volevo lasciar passare troppo tempo. Veramente qualcosa di incredibile, riuscire ad arrivare a mille, mille persone, mille di voi che mi seguono, seguono questa ragazza che continua a blaterare di cose, una famiglia di mille persone. E niente, volevo veramente ringraziare tutti quanti, ho deciso di fare qualcosa di speciale, visto che sono arrivata a mille, e di conseguenza per la prossima volta metterò un link per fare un Q&A, in cui potete chiedere qualsiasi cosa, e io risponderò a tutte le domande a cui riuscirò a rispondere. Ma soprattutto... Wow. Grazie. Grazie davvero. E... Non riesco neanche... Scusate. Non riesco neanche a capacitarmi, che possa essere arrivata a mille. Vabbè. Sol farvi capire quanto sto male in questo periodo. 39 e mezzo di febbre. Eh? Appunto, con questo c'ho l'atmosfera attorno a me. Che c'hai? L'atmosfera. Per cui grazie mille. Perdonatemi l'aspetto un pochettino trasandato, ma appunto, come ho detto, passo la maggior parte del mio tempo al letto delirante con la febbre. Anzi, oggi è la prima giornata che mi sono riuscita almeno a fare la doccia. Grazie mille. E ci vediamo la prossima volta. Ciao famiglia. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti